Ciao a tutti da Svideo, ciao a tutti da Svideo. Qualcuno in una live passata mi aveva detto ma una giornata perché non fai un video che ci dici cosa devi fare di lavoro quella giornata nel tuo negozio? E niente, allora sono qui, vi dico cosa devo fare oggi, alcuni lavoretti che devo fare oggi. Non ho mai fatto di video di questi tipo perché ho detto magari penso sia un po' noioso, però vabbè dai. Per esempio a questa bicicletta qua, questo mountain bike qua, ecco, alle gomme abbiamo provato a gonfiare ma vediamo che non tengono quindi dovremmo cambiare, purtroppo dovremmo cambiare le camere d'aria perché ci aveva detto di provare a gonfiarla la cliente ma non tiene mica. Invece questa bicicletta da corsa, questa bicicletta da corsa qui, della Villier, ah, qua ci dovremmo cambiare il copertone dietro, copertone dietro, poi daremo una bella registrata al cambio, faremo un bel controllino ma soprattutto c'è da cambiare il copertone dietro. Questa qua da bambina l'avevamo già fatta che abbiamo cambiato i tappi del freno perché frenava poco. Ecco, questa bicicletta qua gli abbiamo già messo le borse dietro come voleva la signora e, ebbè adesso siamo a metà mattina quando stiamo registrando quindi alcuni lavoretti li abbiamo già fatti. Quest'altra bici da corsa qua vuole registrato bene il cambio. Poi dovrò controllare se ci sono delle altre maglie da offerta da mettere qua perché abbiamo delle maglie che magari sono appena uscite, che hanno un certo costo, invece quelle in offerta dopo magari le metto qua. Ho montato un ingranaggio diverso a questa bici pieghevole perché lavorava male l'ingranaggio dietro, che si bloccava continuamente la catena, quindi questa l'ho già fatta. Qua c'è il computer portatile, se vedete le lettere alcune le ho dovute scrivere perché ormai si stanno cancellando le lettere. Dopo devo controllare la posta elettronica perché sono rimasto indietro. Comunque qua ci sono dei disegni di mio nipote quando era più piccolo, vabbè adesso ha sette anni, non è che sia molto più grande, però insomma questi qua sono disegni quando era più piccolo. E appese ci sono molte foto con mia nonna, mia nonna che non c'è più ma che gli voglio sempre bene, gli vorrò sempre bene per tutta la vita. Qua c'è anche mio fratello Alex e qua le foto vedete sempre con mia nonna, qua c'è mia mamma. Le foto dei compleanni, qua per esempio 104 anni, è arrivata, stava per compierne 105 quando è morta mia nonna. Diciamo che il nostro ufficio qua, il nostro piccolo ufficetto è pieno di foto e di ricordi. Sì lo so che direte magari ma che disordine, che disordine, che disordine, però noi riusciamo a trovare tutto anche nel nostro disordine. Ah vi faccio vedere quest'altra cosa, guardate cosa mi ha portato poco fa la vicina qua del negozio, mi ha portato un panino con la mortadella, quindi grazie Alba, grazie Alba. E quando vuoi bene alle persone poi dopo vieni ricambiato, no? Perché dopo se sei generoso con gli altri, dopo le altre persone sono generosi con te, e quindi questo è un piccolo banale consiglio che vi voglio dire. Vedete tutti questi numeri appesi? Qua c'è la maglia. E queste qua sono tutte gare di alcuni clienti, ma soprattutto di un nostro cliente in particolare, che vabbè io lo saluto qua. Ciao Ettore, e che fa tanti, tantissime, tantissime gare. Allora gli mettiamo sempre il numero qua in ufficio. Un salutone, ciao ciao ciao!